Sì, abbiamo portato Dina al pareggio. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla e siamo dispiaciuti da ammaricati. Il calcio è così. In questo momento tante parole lasciano parlare in generale, lasciare il tempo che trovo. Perché comunque qualsiasi cosa si può dire viene presa in maniera che in un modo e che in un altro. Nel calcio, come ho detto anche prima, le parole si fanno a inizio anno e a fine anno. Mentre bisogna raccogliere, spingere, pedalare. Non che non sia stato fatto perché quello è stato sempre fatto. Oggettivamente in questo momento probabilmente ci manca quel quid che quando arrivi a fine marzo, magari soprattutto quando devi rincorrere ti può fare la differenza. Detto questo oggi c'è delusione perché comunque ci credevamo e ci vediamo ancora. Da domani si riparte. Frasi sorprendenti. Il campo basso pare che ci aspetta. Sì, non è il discorso degli altri. Noi guardiamo in casa nostra. Poi a fine partita vediamo i risultati. Ma è inutile dire frasi fatte e altre cose. Questa è la realtà. In questo momento le partite sono tutte difficili per tutti. Però oggettivamente dispiace perché siamo uno di qui. La classifica oggi diceva che erano ultime e volevamo ottenere in più. al di là di quello che fanno gli altri. Non posso dire altro o rimproperare niente perché lo sforzo è stato massimo, come probabilmente sempre è stato. Però il calcio non è così. Quando ero in questo periodo probabilmente le partite al di là di tanti discorsi tecnici e tattici o di altro tipo sembra veramente qualcosina in più sotto diversi aspetti per portarle a casa. Perché poi cambia la percezione delle situazioni e dei momenti in poco tempo. In base agli eventi. Una palla dentro una no cambia non solo il rumore ma la percezione di quello che è la situazione. Detto questo noi dobbiamo rimanere equilibrati e fedeli a noi stessi, a quello che siamo, a quello che abbiamo costruito e continuare a dare tutto. E poi come ho detto le chiacchiere a fine anno si faranno. Dire altro in questo momento non ha senso. Oggi dietro diciamo si è risciato poco o niente. davanti forse un po' di cattiveria, di lucidità. Perché di palle in area, come ho detto l'Eriso, in area del Mateso ovviamente. Sì ma non è un discorso di singoli o di reparti. È un discorso generale. Ecco noi siamo una squadra, siamo un blocco. Da blocco ragioniamo. Poi chi porta i ragionamenti su un piano individuale o su un piano di reparto o su un piano di singolo. Il vinto bisogna fare i gol. Sì sicuramente. Ma un gol lo fa anche un difensore processualmente. Soprattutto queste sono le partite che in generale nel calcio si risolvono con l'episodio. Poi al di là del ruolo. Quindi il rammario e il dispiacere è di tutti. Non è che è chi di più chi di meno in base al ruolo o altro. Grazie.